Sì! 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 Hai visto mai di un beccato nel cesso? Quindi tutta questa... Scusate un attimo ragazzi Cade, innanzitutto scusami per il disturbo Niente, per caso mi sapresti dire... Arush Per caso mi sapresti dire che fine hanno fatto tutti quelli che dicevano che senza Ronaldo Avremmo avuto delle difficoltà a segnare e nel vincere le partite Ok, allora continuo la mia ricerca nella speranza di trovarli Buon proseguimento Porca puttana Arush Grazie a tutti Grazie a tutti